Essere o dover essere il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari... Le Streghe è il primo portale dedicato alla promozione del territorio fortorino. Infatti, grazie all'opportunità offerta alla rete, cercheremo di valorizzare il nostro territorio. Cercheremo di diventare il primo mercato globale inserendo i nostri prodotti all'interno di un mercato globale e cercheremo inoltre di valorizzare i nostri prodotti offrendo un servizio personalizzato in base alla tipologia del cliente. Buone nonno, buongiorno! Ciao, cosa fai? Stavo guardando... Perché perdi tempo su questi aggeggi maledetti? Eh, ma guarda, ho trovato una cosa nuovissima e innovativa. Hanno creato un sito dove si possono accostare tutti i prodotti tipici del fortore. Ah, bene! Mi puoi vedere un attimo dove posso trovare un buon formaggio? Buon formaggio, lo cerchiamo subito! Poi inoltre, non ci sono solo i prodotti, si offrono anche servizi personalizzati, quindi si ha bisogno di una consulenza, di qualsiasi cosa. C'è una settore dedicata alla cultura, una agli eventi, al cibo, agli itinerari. Ora vediamo il formaggio dov'è. Il nostro staff si compone di persone semplici e che amano la natura. Proprio per questo motivo adotteremo progetti green in collaborazione con le università del territorio e inoltre utilizzeremo soltanto energie rinnovabili. Risposte facili, dilemmi inutili Ah, 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 cercasi Storie dal gran finale, sperasi Storie dal gran finale, sperasi Grazie a tutti.